Qua a San Girolamo funziona che qualunque negozio che apre deve dare un regalo a noi. Sarebbe questo quanto intercettato dalla polizia di Stato durante le indagini contro il fenomeno delle estorsioni. All'alba di questa mattina sono 5 le persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di estorsione e con l'aggravante del metodo mafioso. I 5 nei primi giorni di luglio avrebbero affiancato un nuovo imprenditore e con la promessa di protezione le avrebbero chiesto 5.000 euro minacciando le dirittorsioni. Gli arrestati sono stati rintracciati presso le loro abitazioni e condotti in carcere.